Il mio SpinPet, microimpresa dell'Università di Pisa, spin-off dell'Università di Pisa, presenta a questo SMAO 2015 un progetto che è stato realizzato, dove SpinPet è stato partner, un progetto europeo che è durato tre anni con partner catalani, belgi e toscani. I prototipi che abbiamo realizzato sono quelli del tessuto realizzato mediante filati provenienti da materiali plastici di riciclo che sono scarti di lavorazione dell'industria del packaging. Siamo al C23, qui nello stand del C23, siamo stati presenti anche allo SMAO del 2014 e siamo stati premiati con il premio ambasciatori d'Europa della regione toscana.